Giocate simili come la seguente, di nuovo bravo a ritagliarsi lo spazio per ricevere, poi movimenti senza palla a dei compagni, riattacca la profondità, quest'altro tipo di atteggiamento tattico che al Bologna sta funzionando, non so se alla Juve può tornare così utile, al Milan secondo me si può andare a giocare tatticamente. L'ottima stagione del Bologna non solo ha messo in luce quella che è la guida tecnica di Tiago Motta ma anche alcune stelline, una su tutte, Zirkzee lo vuole il Milan, lo vuole la Juve, lo vogliono all'estero, dell'estero ci interessa poco, ma appunto per quanto riguarda le italiane capiamo perché le top lo vogliono così tanto, cosa potrebbe dare effettivamente in questo caso durante questa analisi a Milan e Juve? Perché il ragazzo di caratteristiche ne ha e anche di interessanti, tra l'altro lo conosco io dai tempi del Parma, da quando lavoravo al Parma potete ben capire che il ragazzo l'ho analizzato in lungo e in largo, ma durante questa stagione ha messo in luce caratteristiche che vediamo, possono far comodo alla Juve, possono far comodo al Milan, innanzitutto grandi abilità secondo me nel movimento senza palla, insomma Tiago Motta lo usa secondo me molto bene per quanto riguarda movimenti a venire incontro, infatti lo si vede spesso, abbassarsi in questa zona di campo, questo garantisce una certa rotazione per quanto riguarda gli altri giocatori offensivi, mi riferisco a movimenti senza palla ad attaccare la profondità delle ale, mi riferisco agli inserimenti senza palla delle mezzali ed ovviamente anche l'altra ala che accompagna la manovra tutto ciò nel Bologna di quest'anno è possibile proprio grazie a Zirkze e ai suoi movimenti senza palla ed a proposito di tattica, letture, situazioni di gioco ragazzi se volete fare questo di lavoro anche quotidianamente cioè diventare match analyst, osservatori e data analyst e lavorare quindi nel mondo del calcio vi ricordo che per quanto riguarda i corsi di formazione per questo mese siamo sold out ma ci si può già iscrivere per il prossimo mese formazione come dicevo in ambito match analysis, scouting e data analysis, accesso ad offerte di lavoro nel mondo del calcio, accesso a programmi professionali per poter effettivamente poi lavorare tutte le info qui in basso in descrizione, se vi va mandate una mail, vi aspettiamo, trovate tutto qui in basso ma tornando al caro Zirkze in chiave Milan e Juve ci sono diversi discorsi da affrontare ed innanzitutto parto dalla Juve, una squadra che attualmente sotto l'attuale guida tecnica ha già un attaccante che fa questo tipo di lavoro cioè Vlaovic, lo abbiamo analizzato anche lui in lungo e largo, viene spesso incontro ai centrocampisti per provare effettivamente a giocare con i compagni una soluzione che a me non convince. Ora avere Zirkze in squadra innanzitutto potrebbe liberare Vlaovic da questo tipo di lavoro quindi secondo me questa è una prima chiave tattica positiva in casa Juve ma attenzione perché Zirkze sa sì fare questo tipo di lavoro quindi avvenire incontro in questa zona ma per poi riattaccare la profondità. Ora da questo punto di vista quest'altro tipo di atteggiamento tattico che al Bologna sta funzionando non so se alla Juve può tornare così utile perché attualmente attaccanti che fanno tanto movimento ne vedo pochi ma viceversa in casa Milan lì potrei immaginare un Zirkze utilizzato in maniera più interessante se vogliamo come prima punta solitaria come sta facendo durante questa stagione ma un giocatore, un attaccante che potrebbe andare spesso a scambiare posizione con quello che è il trequartista perché attenzione un giocatore che quando si abbassa in quella zona sa anche fornire passaggi interessanti ai compagni di squadra. Vi faccio vedere un esempio qui lo vediamo si è già abbassato, bravo a servire il compagno che viceversa si è inserito nella sua zona ed assist fornito. Occhio poi perché ho letto anche analisi di letture di numeri come se fossero le estrazioni del Super Enalotto. Attenzione ai tre assist stagionali, sono pochi, questo è vero ma consideriamo che spesso i compagni falliscono le occasioni create da Zirkze e quindi secondo me un attaccante che ha dimostrato di saperci fare per quanto riguarda questo tipo di movimento senza palla. Si abbassa, favorisce l'inserimento degli altri compagni, soluzione che alla Juve mi fa storcere un po' il naso perché vedo pochi inserimenti dei calciatori della Juve, mentre al Milan secondo me si può andare a giocare tatticamente in maniera più stimolante. Ma non è solo questo ovviamente il compito di Zirkze al Bologna, non è solo questo quello che ci sta facendo ammirare, quello che è un talento che ha sicuramente del potenziale perché come dicevo dobbiamo anche valutare il contributo che Zirkze dà nella zona realizzativa e un attaccante deve segnare. Io ripeto a me piace tanto per quanto riguarda quelle che sono le capacità ad andare a ritagliarsi uno spazio qui se vogliamo tra le linee perché? Perché innanzitutto è stimolato, viene cercato spesso dai compagni, riesce a dare la profondità come dicevamo per sviluppare la manovra in verticale ma occhio sa segnare perché è un giocatore e un attaccante attivo nel momento in cui deve attaccare la profondità il ragazzo viene sfruttato bene e proprio per questo potrebbe far di nuovo comodo secondo me più al Milan che alla Juve perché ripeto alla Juve ho paura che sotto l'attuale guida tecnica lo risottolineo potrebbe essere un attaccante a cui gli viene chiesto troppo quindi abbassati fai a sportellate poi magari lì davanti non c'è nessuno dovrebbe ricorrere lui in maniera solitaria quindi preveribile facile da marcare alla Juve già l'ho detto sotto l'attuale guida tecnica lo vedrei un po' depotenziato perché immagino lui e Blauic a fare tanto lavoro sporco poi ritrovarsi comunque da soli lì davanti a fare a sportellate in inferiorità numerica e per quanto visto quest'anno ripeto secondo me alla Juve farei fatica di immaginarlo mentre al Milan sotto sempre la guida di Pioli anche in questo caso vedo più movimenti senza palla vedo più partecipazione da parte degli altri giocatori ad esempio io immagino una situazione come questa dove si abbassa poi da la profondità immaginiamo Anuntheo Hernandez riattacca la profondità per poi segnare d'altra parte quest'anno ha già fatto vedere giocate simili come la seguente di nuovo bravo a ritagliarsi lo spazio per ricevere poi movimenti senza palla dei compagni riattacca la profondità questo è secondo me lo Zirkze che fa il caso delle squadre che lo andranno a prendere per quelle che sono le situazioni attuali ripeto lo vedrei meglio al Milan rispetto alla Juve sicuramente il discorso cambia totalmente nel momento in cui dovessero cambiare le guide tecniche di entrambe le squadre quindi ovviamente seguiremo la situazione vedremo dove andrà a finire il caro Zirkze ed eventualmente ritorneremo con un'analisi approfondita secondo quella che è la destinazione finale dell'attaccante quindi ragazzi ad oggi questa è la mia opinione in ottica futura ma considerando le situazioni attuali delle varie squadre ma come sempre sono super curioso di conoscere le vostre opinioni le vostre analisi fatemele conoscere qui in basso nei commenti